www.feyyaz.tv C'è anche una cosa sbagliata che ha fatto il costo del mille, chiunque è stato. No, è sbagliata, ci sono detto che io non ho realizzato. O è un istrattore che ti domanda che è tutto un cretino. Comunque, siccome noi dobbiamo, noi dobbiamo 10 mila euro. C'è come fare 10 mila euro di diritto? E noi ci dobbiamo mandare cazzalato. Qualcuno che si deve portare 5 euro, si piglia di 10 mila euro. Cazzalato il costo del mille, noi c'è come non lo diamo. Poi le p***e siamo fermate con due p***e. No, una è c***a. E' un'esposizione. Ma che era il costo del mille che gli aveva dato con un'econvenenza legge? Che se io con il leonese, che ci convieneva sapere di riuscire a c***a? Tu sei la c***a. Tu sei la c***a. Devi garantire di nascere la c***a. Tu sei piegato ogni mese, non mi hanno dato un'econvenenza. Se lui dice, ma io non lo so. Piegate la casa e venite le patine. Perchè ti do fuoco. Perchè ti do fuoco. Perchè ridere la rincia. Perchè con questa persona noi abbiamo la possibilità di creare un po' di ritoria. Perchè cosa gli voglio dire a lui. Tu pigli una c***a, x, e ce la fai a me. Tu continua a fare quello che vuoi fare. Però tu sai che tu hai un mese e devi metterla da parte. Una c***a. So. So.